Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. La giornata elettorale ieri anche in Abruzzo, dove si è recato a votare il 52,62% di coloro che ne avevano diritto, a fronte del 64,15% della precedente tornata elettorale, quando però le europee si svolsero nello stesso giorno delle elezioni regionali. Questi sono i dati definitivi per quanto riguarda l'affluenza alle urne nelle quattro province abruzzesi. Nella provincia di Chieti ha votato il 49,87%, il precedente dato era del 60,44%. In quella di L'Aquila il 48,04%, il precedente dato era del 59,29%. Nella provincia di Pescara ha votato il 59,21% degli aventi diritto, nella precedente tornata elettorale per le europee era stato il dato del 68,27%. Nel Terramano infine ha votato il 54,05% degli aventi diritto, il dato precedente era 69,89%. Per quanto riguarda le tre città con un numero di abitanti superiore ai 15,000 in cui si è votato anche per le comunali, i dati sono stati questi. A Pescara ha votato il 65,80% degli aventi diritto, il dato precedente era del 71,87%. A Montesilvano il 64,32%, il dato precedente era del 70,83%. A Giulianova il 66,12%, il dato precedente era del 72,75%. Nel comune di Torre dei Passeri, dove c'era un solo candidato sindaco, non è stato raggiunto il quorum, quindi si tornerà alle urne di nuovo. Mentre il quorum, cioè il numero minimo di votanti perché un'elezione sia valida, è stato raggiunto a Tossicia, in provincia di Teramo, dove è stata eletta Emanuele Larispoli. Oltre il 50%, anche gli elettori alle urne di Ancarano, dove è stato eletto Angelo Paninchi. Questi i risultati per quanto riguarda le europee nella circoscrizione sud, che come ricordiamo, oltre all'Abruzzo, vedeva praticamente tutte le altre regioni del sud, all'esclusione delle isole Sicilia e Sardegna. Nella circoscrizione sud, il partito più votato è il Movimento 5 Stelle, con il 29,21% dei voti, seguito dalla Lega Salvini Premier, 23,41%, dal Partito Democratico con il 17,85%, da Forza Italia con il 12,27%, da Fratelli d'Italia con il 7,58%, più Europa con il 3,14%, la Sinistra con il 2,02%, Europa Verde con 1,68%, a seguire poi tutte le altre forze politiche. Si moltiplicano, cambiamo dunque argomento, le chiusure al traffico nel tratto abruzzese sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di lavori di manutenzione alle gallerie e alla pavimentazione. In questa settimana sono previsti almeno tre stop d'autostrade per l'Italia. Si inizia alle 22 di oggi, fino alle 6 di domani di mattina, quando chiuderà il tratto compreso tra Atri, Pineto e Pescara Sud, per lavori di manutenzione agli impianti nelle gallerie. Traffico deviato sulla Statale 16 all'uscita obbligatoria dell'astuzione di Atri, Pineto, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Pescara Nord. Proprio il casello di Pescara Nord, Città Sant'Angelo, chiuderà sia in entrata che in uscita, in entrambe le direzioni, poche ore dopo, per una notte, dalle 22 di domani sera fino alle 6 di domani mattina, per lavori di pavimentazione. In alternativo occorre arrivare al casello autostradale di Pescara Ovest o di Atri, Pineto. Il terzo stop previsto da autostrade per l'Italia è per mercoledì 29 e giovedì 30 maggio, quando chiuderà per due notti, in trambi i casi dalle 22 alle 6 del mattino seguente, il casello di Atri, Pineto, sia in entrata verso Ancona, Bologna, sia in uscita per chi proviene da Bari-Pescara. In questo caso occorre utilizzare le stazioni autostradali di Pescara Nord, Città Sant'Angelo o di Roseto degli Abruzzi. Tantissimi cittadini, nonostante la pioggia, hanno partecipato ieri alla passeggiata, no alle concessioni, sì alla spiaggia libera alla stazione di Tollo e alla sua biodiversità, che si è svolta ad Ortona e durante la quale sono state segnalate, con picchetti, corde e cartelli, le rarissime piante dunali e le zone di nidificazione del fratino. In pochi giorni sta crescendo la mobilitazione contro la scelta del comune di Ortona di rilasciare otto nuove concessioni balneari temporane, oltre alle due già esistenti, in un'area di elevatissimo pregio ambientale e paesaggistico, con presenza di specie e di piante protette, dal verbasco al giglio di mare, e di specie e animali tutelate a livello europeo, come il fratino, uccello ormai rarissimo e protetto, almeno sulla carta, allo stesso livello dell'aquila reale. E veniamo allo sport, sarà Cittadella e Lasse Verona la finalissima per la Serie A, infatti il Verona ha sovvertito il doppio vantaggio del Pescara, spugnando l'Adriatico grazie ad un calcio di rigore di Di Carmine. Prima frazione totalmente ad appannaggio degli Scaligeri, la squadra di Aglietti, obbligata a vincere, ha messo alle corde il Pescara, restando per quasi tutti i primi 45 minuti nella metà campo dei Biancazzurri. Dopo appena 5 minuti Di Carmine gonfia la rete, ma la sua posizione è in netto fuori gioco. Il Pescara non riesce ad uscire dalla pressione e il Verona continua a premere andando vicinissimo al gol con un colpo di testa di Laribi di poco fuori. Intorno alla mezz'ora ancora un brivido per Fiorillo e ancora una volta Di Carmine si vede annullare una rete in posizione di offside. Il maggior tasso tecnico dei veronesi nella prima frazione ha messo spesso in difficoltà gli uomini di Pillon, a passi piuttosto scarichi, soprattutto in mezzo al campo, con i tre della linea mediana che non sono riusciti a fare filtro. Nella ripresa il Pescara è apparso più pimpante nella prima parte e subito dopo appena due minuti Marras si è divorato il gol del vantaggio. Poco più tardi ci ha provato con un tiro da fuori in Memushai, ma la sua conclusione è risultata debole. Il Verona ha sofferto, ma è riuscito comunque a gestire le sfuriate del Pescara che è ripiombato nell'oblio del primo tempo. Di Carmine, il più brillante dei suoi, ha sfiorato ancora il gol di testa. Aglietti ha poi buttato dentro Pazzini, mentre Pillon ha risposto con ingresso di Campagnaro per Sottil. La mossa del tecnico di Preganziol si è rivelata poco azzeccata. Infatti, qualche minuto più tardi, il Verona si è procurato un calcio di rigore con il solito di Carmine. Dagli 11 metri l'attaccante Scaligero non ha sbagliato e ha portato in vantaggio i suoi. Dopo averla sbloccata da parte del Verona, il Pescara ci ha provato senza però incidere con la forza dei nervi sino all'ultimo secondo dei quattro di recuperi, quando Bellini si è divorato il gol che avrebbe regalato la finalissima alla squadra di Pillon. Scognamiglio ha perso la testa e si è fatto espellere per un fallo a palla lontana. Ma se note negative giungono dal calcio, sono invece positive quelle che arrivano dal calcio A5. Infatti, la finale scudetto della Serie A del calcio A5 è iniziata nel segno dell'acqua e sapone Unigross. Al Pallaroma di Montesilvano, in gara 1 dell'atto conclusivo dei play-off, i campioni d'Italia in carica non hanno dato scampo all'Ital Service Pesaro e si sono portati avanti nella Serie Tricolore. E' finita 7-2 per i padroni di casa, con la squadra di Colini uscita dal parquet con davvero le ossa rotte, simbolicamente naturalmente, per il cartellino rosso a Riccardo Caputo. Si tornerà in campo sabato prossimo, sempre al Pallaroma, con calcio d'inizio alle ore 18. Oggi, lunedì 27 maggio, nella diocesi di Termoli-Larino, nella città di Larino, si celebra la solennità di San Pardo, vescovo e patrono della città di Larino e della diocesi. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi, su Pescara e provincia, si prevedono sulla costa pioggia fino a tutto il pomeriggio, cielo molto nuvoloso nelle prime ore della sera e nebbia in tarda serata, con temperature da 14 a 16 gradi e venti deboli, e nelle zone interne pioggia fino alle ore centrali, cielo coperto nel primo pomeriggio, pioggia nel resto del pomeriggio, cielo coperto nelle prime ore della sera, è nuvoloso in tarda serata, con temperature da 14 a 16 gradi e venti deboli, il mare è previsto mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario, da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.